Tutto quello che ci perceva e anche la forma, questa è la forma di un maritozzo alla fine, non è voluta, però è venuta, nel senso che ovviamente non ha nulla a chiedere con un maritozzo, però tutto insieme funzionava, insieme giocava, stava bene e non aveva lunga forzatura, per cui siamo andati dritti, credo che sia due volte l'abbiamo fatto, tre al massimo.